Voglio sfatare il farsomiglio del caffè che faccia male, ragazzi, perché il caffè fa molto bene. Oh, grazie, grazie, perché io ne bevo tantissimo. Anch'io, anch'io. Anzi, anzi, vi dico una cosa, dalla ricerca scientifica emerge che fino a tre caffè al giorno non sono protettivi. Tra i tre caffè e i cinque o sei al giorno invece risulta essere protettivo, cioè ci fa del bene il caffè. Scusa, perché cosa ci protegge, Marco? Esatto, esatto, guarda, se siamo in buona salute comunque, pensate che diversi sono gli effetti del caffè grazie agli 800 composti volatili che contiene e tra questi composti, oltre ovviamente l'alcaloide, il più famoso che è la caffeina, c'è anche l'acido clorogenico che pensate che è capace di ridurre l'assorbimento degli zuccheri e dei grassi al nostro corpo. Praticamente ci riduce anche il colesterolo coattivo, è fantastico il caffè. È meraviglioso. Dopo una cena è molto utile appunto per ridurre i grassi circolanti. Inoltre riduce il rischio di malattie cardiovascolari e tenetemi pronti perché da ultime indagini si stanno sempre più confermando anche la protezione nei confronti del Parkinson. Quindi avrà sicuramente un effetto ancora più importante nel corso degli anni. Inoltre non da ultimo ovviamente il rischio oncologico viene ridotto perché aiuta a proteggere il fegato, la cute cioè la pelle e il colon retto. Quindi evviva il caffè ragazzi. Evviva il caffè. Marco ma senti con zucchero senza zucchero immagino senza amaro. Senza dai ma certo. Ragazzi senza zucchero. Assolutamente d'accordo. Il caffè con zucchero non è caffè. Mi raccomando. Ok. E per tra tu? Zucchero. No no io da tanti anni ormai lo prendo amaro. Amaro amarissimo. Lo assalori al massimo. Mi piace di più. Se il caffè è buono alla fine riusciamo a averlo anche senza zucchero. Quindi l'importante è sempre un po' la qualità. Quindi Marco tu ci stavi dicendo che fino a 6 caffè al giorno sarebbero consentiti? Cioè non c'è nessun rischio? Assolutamente. Assolutamente. Il fatto dell'attacchi cardia ovviamente è sempre qualcosa di soggettivo. Ricordiamocelo. Non c'è nessun dato scientifico che ci dimostra che appunto bevendo caffè può aumentare il battito. Anzi addirittura risulta proprio essere protettivo nei confronti delle malattie cardiovascolari in generale.